amici cari eccoci dopo questa breve pausa per le festività natalizie festività che sono state ovviamente finte in quanto abbiamo potuto fare poco non abbiamo potuto festeggiare non abbiamo potuto abbracciare i nostri parenti i nostri cari stato probabilmente il peggior natale della nostra vita ma questo è certamente il peggiore momento della nostra vita vedete sto ripetendo ma lo sto facendo con sempre con la moderazione che ci contraddistingue nonostante dovremmo essere arrabbiati da morire da morire perché stanno morendo tante troppe persone per i motivi più strani e poi alla fine del certificato di morte ci scrivono covid e chiudono la pratica ma su questo la magistratura sta facendo delle indagini voi sapete che siamo impegnati in parecchi tribunali d'italia dove sono stati aperti fascicoli da parte delle procure con perizie con sequestro delle carte negli ospedali eccetera quindi la magistratura ci dovrà dire al più presto cosa sta succedendo allora allora questa sera parliamo di varie cose la prima cosa più importante di tutte mi state mi state mandando decine centinaia di messaggi di allerta di paura soprattutto da chi da parte soprattutto dei dipendenti pubblici i dipendenti pubblici sanno sanno hanno paura che potranno essere ricattati otti vaccini otti licenziano i primi che hanno paura ovviamente sono le persone impegnate nella sanità ma non solo medici tutti quelli impegnati nella sanità hanno paura gli insegnanti personale scolastico hanno paura i militari ma vedete guardate esistono in questo momento due mondi un mondo di persone che ragionano un mondo di persone che vogliono risposte che colloquiano dall'altra parte ci sono delle persone prepotenti cattive come possiamo dire con una visione con i paraocchi che non discutono di nulla ti devi vaccinare è un obbligo un obbligo morale un obbligo morale di che cosa guardate la l'italia è un paese democratico forse lo hanno dimenticato in molti è un paese democratico da parecchi anni da più di 70 anni è un paese democratico e nessuno può impedire la libertà degli altri e se qualcuno pensa di ripristinare le leggi razziali del nazismo in cui una certa razza oppure persone con idee diverse venivano marchiate a fuoco ed esiliate noi non ci staremo noi non ci staremo perché crediamo nella democrazia e dato che crediamo nella democrazia combatteremo per la democrazia la libertà nostra e i nostri dei nostri figli e non ci faremo piegare lo diciamo con estrema franchezza ma siamo disposti sempre ad un colloquio con quelli che invece ci additano con quelli che ci violentano quotidianamente con articoli giornali telegiornali siamo subissati vedete talmente subissati talmente subissati che ci sono fatti gravissimi avvengono fatti gravissimi guardate è proprio questo martellamento che subiamo guardiamo questo insieme questa notizia che abberrante drammatica guardiamola insieme scopre di essere positivo quindi non di essere malato scopre di essere positivo si spara alla testa perché avviene questo perché stiamo subendo un colossale quotidiano un martellamento di notizie sempre più drammatiche che ci privano della nostra libertà intellettuale ma veniamo a noi allora diciamo a tutti i cittadini lo diciamo soprattutto nei confronti del personale della sanità della scuola e pubblici dipendenti l'articolo 32 della costituzione italiana è vigente e lo difenderemo con tutti i mezzi legittimi costituzionali giuridici che possediamo e siamo la nostra associazione ma tante altre associazioni come la nostra sono a disposizione saranno a disposizione per presentare denunce ricorsi in tutta italia dove qualche categoria sarà obbligata a fare un vaccino vaccino che non esiste vaccino che come vedremo adesso la stessa AIFA la stessa PSIFER dichiarano di non conoscerne gli esiti adesso leggeremo i documenti noi sapete che non parliamo a vanvera noi pubblichiamo tutti i documenti che certificano quello che stiamo affermando ecco il primo documento lo potete fotografare lo potete mettere sul vostro archivio ma lo pubblicheremo sul nostro sito io sto con l'avvocato polacco ecco quello che dice l'AIFA ancora non sappiamo in maniera definitiva se la vaccinazione impedisce solo la manifestazione della malattia o anche il trasmettersi dell'infezione ancora non sappiamo se la vaccinazione impedisce il trasmettersi dell'infezione ecco perché essere vaccinati non non conferisce un certificato di libertà ma occorre continuare ad adottare comportamenti corretti misure con di contenimenti eccetera eccetera ecco ecco il vaccino che secondo alcuni dovrebbe essere obbligatorio eccolo la vaccinazione non impedisce trasmettersi dell'infezione vedete rispetto a molti chiacchieroni in napoletano si direbbe qua 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 noi stiamo facendo vedere delle certificazioni non nostre ecco ma non finisce qui guardate guardate sempre l'AIFA e quindi stiamo parlando del governo è non ecco qui AIFA eccolo guardate ecco qui specifica quando si va a cliccare sulle domande specifica questo che stiamo per leggere guardate può il vaccino ridurre la trasmissione del virus da un soggetto a un altro l'impatto della vaccinazione sulla diffusione sulla popolazione non è ancora noto guardate non è ancora noto la domanda è può il vaccino ridurre la trasmissione del virus da un soggetto a un altro l'impatto della vaccinazione sulla diffusione del SARS-CoV-2 nella popolazione generale non è ancora noto non si conosce ancora fino a che punto le persone vaccinati possono essere in grado di trasportare e diffondere il virus ma ma scusatemi bastano solo queste due considerazioni non fatte da noi non fatte dai negazionisti non fatte da Novax dal governo dall'AIFA dal governo cioè noi dovremmo essere obbligati a vaccinarci con un medicinale di cui non si conosce neanche l'esito e la portata ma siete leggermente pazzi ma siete leggermente pazzi o c'è un qualche cosa che non conosciamo che state occultando no lo ve lo voglio farvi vedere guardate anzi fotografatevelo perché questa anzi vi faccio vedere anche la copertina perché altrimenti sembra sembra una fandonia ecco questa è la copertina AIFA questa è la prima pagina eccolo qui questa è la pagina 2 2 di 5 la vedete 2 di 5 l'impatto sulla diffusione l'impatto che avrà la vaccinazione non è ancora noto non si conosce ancora fino a che punto le persone possono essere in grado di trasportare il virus quanto dura la protezione al momento non si conosce la durata i bambini possono essere vaccinati il vaccino non è al momento raccomandato dai bambini e continua le persone immunocomplesse possono essere vaccinate i dati relativi all'uso delle persone immunocomplesse sono sono state i dati sono il numero troppo limitato ecco queste questo è quello che l'AIFA l'AIFA ente governativo dello stato italiano dice di questo vaccino andiamo avanti andiamo avanti stiamo vedendo esclusivamente documenti ufficiali quindi non stiamo parlando di cose che non conosciamo o di nostri pensieri o di politica o di sofismo documenti certificativi ufficiali allora ministero della salute eccolo qui ministero della salute c'è anche il numero è così guardate eccolo qui del 24 12 prima che nascesse Gesù a mezzanotte hanno emanato questa circolare guardate 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 già dalle prime pagine si capisce che una circolare strana ditemelo voi guardate allora guardate gli indirizzi ministero dello sviluppo ministeri 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 assessorati eccetera federazione ordine dei medici guardate due pagine poi guardate conf commercio trinitaria e italo ma scusate ma cosa c'entrano cosa c'entrano con i prefetti protezione civile prefetti di ministero poi c'è conf commercio trinitaria e italo guardate non esiste nessuna regione regione veneto l'unica regione ve lo faccio rivedere sembra uno scherzo ministero della salute circolare eccola qui del 24 12 ministeri 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 associazione associazione eccetera regione veneto ma scusate la regione veneto ha una parentela col ministro della salute la regione veneto è iscritta allo stesso partito non si capisce perché solo la regione veneto ma c'è un connubio tra ministro della salute e presidente della regione veneto c'è un qualche cosa che non conosciamo c'è un contratto tra di loro è impossibile che una circolare venga inviata a una sola regione italia c'è qualcosa che non va guardiamo l'oggetto di questa circolare eccola oggetto raccomandazioni per la organizzazione della campagna vaccinale come vedete siamo in possesso di documenti che in pochi anni e cosa c'è in questo documento adesso ce lo guardiamo guardate modulo di consenso o finalmente 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 si specifica quello che prevede la legge la legge prevede che non possiamo essere sottoposti a nessun trattamento medico se non ci sia il consenso informato e finalmente qualcuno lo afferma in questo caso lo afferma il ministero della salute lo afferma lo facciamo rivedere lo facciamo rivedere eccolo qui ministero della salute circolare del 24 12 eccolo qui guardate guardate pagina 3 andiamo pagina 5 eccolo qui modulo di consenso informato ebbene prima di vederlo questo modulo vi faccio vedere quali sono gli obblighi di legge gli obblighi di legge di qualsiasi trattamento sanitario nessuno ci può telefonare ci può mandare un telegramma ci può mandare una mail domani viene di vaccinare è vietato dalla legge se io non do il consenso informato vietato dalla legge capito non non scherziamo non possiamo scherzare con la nostra vita ecco consenso informato guardate questo lo pubblicheremo lo potete fotografare il consenso è fermato vedete ai sensi della legge 145 01 deve essere personale libero spontaneo consapevole manifesto recettizzo revocabile specifico attuale informato eccolo consenso informato quindi io non presto il consenso informato vedete e guardate questa dinanzi a di niego al trattamento il medico non può coattivamente eseguirlo anche se necessario alla stessa sopravvivenza corte di cassazione sentenza 23 6 7 6 7 6 7 6 del 2008 ecco consenso informato vietato se io do il mio diniego siamo abbastanza chiari siamo in regola con la legge noi stiamo solo affermando cari amici folli che volete obbligare una popolazione a fare un qualche cosa noi vi stiamo informando che la legge non solo la costituzione ma la legge non ve lo consente siamo liberi di scelta e questa scelta la difenderemo in migliaia in centinaia di migliaia di cause se voleste tentare un colpo rivoluzionario anticostituzionale noi noi difendiamo la costituzione italiana voi siete negazionisti della costituzione italiana siamo chiari e allora vediamo il consenso informato che eccolo qui previsto dal ministero ecco facciamo rivedere il ministero della salute contesto è fermato consenso informato ho compreso i rischi della vaccinazione dove stanno scritti non ci sono devi andare agli allegati ma non ci sono sul consenso informato come vedete dopodiché acconsento e autorizzo la somministrazione ma come vedete rifiuto la somministrazione quindi acconsento rifiuto quindi ovviamente come prevede la legge mi posso rifiutare ma in queste dieci righe del consenso informato ci poniamo una domanda guardate non c'è scritto nulla ma chi è responsabile in caso di conseguenze non c'è scritto non c'è scritta nessuna responsabilità ed ecco uno dei segreti di questo vaccino vi faccio vedere vi faccio vedere che negli stati uniti ecco qui guardate guardate ecco uno degli arcani eccolo qui case farmaceutiche blindate negli usa l'europa ancora tace le clausole dei contratti firmati dalla commissione europea sono state secretate possibile che i produttori abbiano uno scudo penale ma vi rendete conto i contratti dei vaccini sono stati secretati per non farci sapere chi è il responsabile di eventuali danni che provocherà questo vaccino è un dato di fatto stiamo dicendo per caso qualche inesattezza qualche menzogna sono dati certificati e non è finito guardate ecco qui sempre guardate sempre dal documento del ministero della sanità lo facciamo rivedere andiamo andiamo alla pagina 11 ecco qui eccolo qui in pagina 11 l'elenco delle reazioni avverse sovraesposto eccole qui quelle sovraesposte non è esaustivo di tutti i possibili effetti indesiderati ed ecco il punto 10 non è possibile al momento prevedere danni a lunga distanza non è possibile al momento prevedere danni a lunga distanza scusateci negazionisti della costituzione ma perché io mi dovrei fare obbligare da voi a inocularmi un farmaco di cui afferma il ministero della sanità e l'aifa cioè il governo non è possibile prevedere danni a lunga distanza me lo spiegate spiegateci andiamo avanti andiamo avanti vedete si sta iniziando a seminare terrore e appositamente guardate i titoli i titoli dei giornali guardate troppi no al vaccino si valda l'obbligo per il pubblico impiego vedete come come si come si organizza il il terrorismo mediatico psicologico e scientifico allora che cosa è stato organizzato in questi giorni ecco guarda guardiamo è stato in questi giorni è stata una piramide di notizie su tutti i telegiornali ma dei talk show delle delle commedie tutti in fila con la le l'infermiere turno che è diventata una pop star perché si è fatta iniettare il vaccino ma guardate guardate alcune di queste fotografie eccola qui la guardate l'infermiera circondata da polizia carabinieri guardate ma che sono delle immagini delle ma eccola qui tutti i giornali ovviamente dentro un ambulatorio non ci dovrebbero essere televisioni non ci dovrebbero essere fotografi una cosa riservata la privacy ecco qui la privacy guardate 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 ma questi poliziotti e carabinieri ma perché non stanno in giro ad arrestare spacciatori di droga invece di stare lì a farsi fotografare a decine ma ce lo dovete spiegare ed eccolo qui l'altro un altro attore il governatore de luca che salta la fila per farsi fare la punturina sul braccio cioè è stato creato un film una commedia un qualche cosa di incredibile su una questione sanitaria di scelta e soprattutto di diritto chi ha diritto e lo vuole fare fare il vaccino e invece c'è la corsa a farsi le fotografie è questo che è diventato siamo all'eccesso della follia umana ma ma ci sono cose ancora più gravi nonostante che l'aifa stessa dica che non si conoscono gli esiti del vaccino poi qualcuno si fa intervistare eccolo qui eccolo qui bortoletti coordinatore uscar eccetera eccetera la prima dose impedisce di ammalarsi in modo grave il richiamo immunizza e beh è falso scusi professore o dottore sta dicendo una cosa completamente falsa l'avviso che è completamente falsa perché l'aifa dice invece che non si conosce assolutamente il grado di immunità che dà il vaccino quindi perché dire prima ancora di iniziare delle affermazioni i novax non li capisco scusi professore ma noi non capiamo lei come faccia fare queste affermazioni non riusciamo a capire se ci spiega la sua teoria rispetto al bugiardino del del vaccino a quello che dice l'aifa a quello che afferma il ministero a quello che afferma l'app cipher cioè che non ci sono dati assolutamente incontrovertibili al contrario allora ce lo spieghi perché lei è così convinto se tutto il resto della scienza certificativa non delle sue chiacchiere della scienza certificativa afferma il contrario quindi non è lei che non capisce noi siamo noi che non sappiamo lei come fa a fare queste affermazioni e mentre e mentre si creano si cercano sentieri non lineari per poter obbligarci a fare vaccino chi non si vaccina non può viaggiare chi non si vaccina non può avere il passaporto addirittura e al contrario sembrerebbe la rania air da un premio a chi si vaccina se siamo a una follia che supera anche l'immaginazione ecco qui porti spalancati al virus se viene dall'africa mentre gli italiani in arrivo dal regno unito sono stati trattati come appestati a causa della variante inglese gli sbarchi continuano senza sosta e ora il rischio nei paesi covid d'origine potrà essere motivo per concedere la protezione ai clandestini questo perché il tribunale di milano mi sembra di milano ha affermato che il clandestino può rimanere in italia perché nel suo paese si può ammalare di covid mentre in italia c'è la più alta incidenza di morti del di morti di covid del mondo intero incidenza numerica per i numeri che vengono sorteggiati in italia non li possiamo rispedire perché da loro c'è il covid da noi ci muore ma possono rimanere in italia allora terminiamo questa prima fase nei prossimi giorni vi daremo spiegazioni di tutto quello che sta avvenendo di tutte quante sono le nostre iniziative giudiziarie giuridiche giudiziarie vi ricordo e chiediamo scusa se abbiamo qualche lieve ritardo nell'inviarvi i moduli per la richiesta di esercimento allo stato per il lockdown ma stiamo lavorando alle vostre tantissime richieste quindi nei prossimi giorni ricevedete tutto state tranquilli voglio segnalarvi l'immenso lavoro del professor stefano scoglio candidato al nobe per la medicina del 2018 quindi non mario rossi o non l'avvocato polacco che sta facendo degli studi analitici importantissimi di cui ci sta dando notizia e nei prossimi giorni pubblicheremo queste notizie vi faccio vi faccio vedere un anteprima un anteprima del professor scoglio sui test sia rapidi sia da tampone in cui ha fatto delle importantissime scoperte facendo anche i tamponi alla frutta e questi tamponi sono risultati positivi ma lo spiegheremo di seguito ecco il professor scoglio sta continuando a fare gli studi sui tamponi certificando il professor scoglio lo certifica con la sua firma la falsità di oltre della metà ma oltre della metà dei test tamponi covid vi daremo notizie vi pubblicheremo questi documenti il professor scoglio addirittura firma con la propria firma la propria faccia questi documenti che sono dei certificati qualcuno li dovrà contraddire ma li dovrà contraddire con certificati non andando dalla d'urso in televisione e facendo un tol show perché tutto quello che diciamo in questo gravissimo momento del nostra vita e della vita del nostro paese non può essere un tol show deve essere tutto certificato come stiamo facendo noi tutte le sere con questi incontri vi preghiamo vi invitiamo questo è l'unico mezzo democratico che c'è rimasto questi messaggi questi video questo questi colloqui che facciamo condividiamoli al massimo soprattutto su tutte le reti possibili perché sapete che ci stanno attaccando in tutti i modi oscurandoci facendo tagliandoci in tutti i modi ecco condividiamo al massimo perché l'unico mezzo democratico che ci è rimasto e attraverso questi nostri colloqui rimaniamo insieme stiamo creando una grandissima famiglia di persone pensanti di persone pensanti e soprattutto persone democratiche che ancora nonostante tutto credono nella costituzione italiana ci vediamo nei prossimi giorni ogni giorno vi daremo notizie di eventuali fatti nuovi e di eventuali nuovi nostri interventi in tema giudiziario ciao buona serata